sono qui per cambiare le gomme vediamo se le hanno ovviamente io le prendo usate per l'estate capito? vediamo se c'è qualche cosa eccole qua sono delle michelin radiel sono delle 65 anziché 75 anziché 70 quindi sono un po più piccole però sono meno rumorose e quindi fanno la loro parte queste qua ottime collins winter extreme davvero ottime gomme le cambio perché voglio tenerle queste qua per il prossimo inverno non vorrei quindi che si strappassero